Stai finendo matematica? No, sto facendo il disegno di un supereroe Adesso cambiamo il cerotto e poi andiamo a scuola che stiamo in ritardo No, per favore, dammi ancora 5 minuti No, andiamo Ok, che uffa però E cosa fa di super? Salva la vita delle persone Ah sì? E da cosa? Beh, non lo so Te mostri? No E allora da cosa? Forse dai virus invincibili E come fa? Ha delle armi speciali? No, ha la forza La stessa è solo la forza Perché? Cosa serve? Beh, serve lo studio e l'impegno Forse mi è venuta un'idea Per un disegno? Sì Un'idea Grazie a tutti.